Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio, volevo fare una video recensione di una fresca uscita in un video che è questo bellissimo film che è Il re di Staten Island, commedia, dramma, biografico diretto da Jude Apto. È un film che era uscito quest'estate, ma almeno in Italia, nei cinema, ma data la situazione ha avuto una distribuzione abbastanza complicata è stato distribuito poco, io lo attendevo, lo volevo vedere perché Jude Apto è un grande regista è un grande regista perché lui si cimenta sempre in commedie ma trova sempre quel bel equilibrio intelligente, leggero per raccontare delle storie incredibili, incredibili nel senso toccanti, apparente semplici ma molto profonde questa volta si cimenta in un film appunto biografico perché il protagonista è Pete Davidson che interpreta Scott e il film è un estratto della sua vita perché lui da piccolo a sette anni persi il padre che era un vigile del fuoco nella tragica storia dell'11 settembre. Ecco, da quell'episodio lo stesso Pete Davidson ha raccontato la sua storia al regista il quale ha voluto assolutamente farne un film e ne è venuto fuori un film molto molto bello, molto intelligente come Il re di Staten Island. Di cosa parla la storia? Molto semplice, parla di questo ventenne, anzi 24enne Scott che passa la giornata a perdere tempo fondamentalmente a divertirsi con gli amici, non ha obiettivi, fuma dalla mattina alla sera, gioca ai videogiochi ma non ha un obiettivo. Lui sta ancora elaborando la perdita del padre che l'ha proprio scioccato appunto all'età di sette anni per cui la sua vita non ha uno scopo, lui stesso non ha uno scopo e vive proprio come un adolescente cresciuto. Attorno a sé invece la sorella va al college, chi gli sta attorno continua una vita con degli obiettivi e invece lui rimane come se fosse fermo. Ma questo status viene scosso quando la madre, che è interpretata da grandissima Marisa Tomei si innamora di una persona, di un altro vigile del fuoco che è interpretato da Bill Burr e quindi lui scatta una molla, si arrabbia moltissimo per questa cosa si arrabbia in maniera proprio brutale con la madre dicendo ma com'è possibile che tu faccia una cosa del genere quando hai perso un marito io ho perso un padre, vigile del fuoco e tu ti innamori di un altro vigile del fuoco allora diventa iper protettivo nei confronti della madre e dentro di sé cambia qualcosa capisce che quello è il momento per crescere, per entrare definitivamente nel mondo degli adulti e il confronto, scontro con appunto il nuovo compagno della madre all'inizio è veramente duro Scott non lo accetta ma poi succederà una cosa che gli farà cambiare il punto di vista questa cosa è che inizierà lui stesso a cimentarsi proprio a fare il vigile del fuoco e a farsi aiutare non solo dal nuovo compagno della madre ma anche dai vecchi compagni del padre che avevano conosciuto il padre e che lo consideravano tutti un grande eroe è un film molto interessante Giudapato fa ancora una volta, dimostra tutto il suo talento la sua capacità di raccontare delle storie delicate ma con un tocco leggero, ironico e a tratti anche spiazzante perché comunque raccontare una storia del genere non è per niente facile non solo per il discorso del 11 settembre ma del fatto che il protagonista è l'autore della storia stessa e Apato fa un film molto molto bello tra l'altro lui non è nuovo a comedy con questo tocco ma di solito si era occupato sempre di un target un po' più alto cioè le sue storie vedevano protagonisti persone di 30-40 anni qua fa un passo indietro e indietro nel senso come fascia d'età ma la classe è sempre la stessa un film tra l'altro che dura, per essere una commedia veramente tanto dura due ore e dieci, due ore e un quarto ma non cala mai di tensione anzi è abbastanza graduale il film parte piano e piano piano aumenta di tensione è bravissimo Apato a tirar fuori la storia da Pete Davidson che è bravissimo, veramente bravo 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 e quindi ne viene fuori un film assolutamente da vedere che avrei voluto vedere al cinema ma purtroppo come detto all'inizio la distribuzione è stata un po' problematica e poi vista la situazione quest'estate insomma al cinema si è potuti andare pochissimo cosa dire d'altro oltre al protagonista principale anche il cast che c'è attorno funziona alla grande Marisa Tomei la conosciamo ma anche Bill Burr è bravissimo a interpretare un altro padre duro con anche delle idee, dei concetti molto diversi da quelli di Scott e lo scontro funziona molto molto bene e anche il resto del cast penso a Maud Apato che fa la sorella e anche le altre quindi cosa vi posso dire che è un film che andava visto al cinema una bellissima sorpresa un modo molto fine e intelligente per raccontare la trasformazione il cambio di un adolescente adulto per entrare nella vita quella vera e soprattutto porsi degli obiettivi è un film che scorre benissimo c'è solo un punto secondo me dove un pelino il film si perde quando oltre a raccontare appunto la storia di Scott si racconta la storia dei suoi amici della famiglia che gli sta attorno ecco c'è un episodio in cui Scott e i suoi amici compiono una bravata che finisce anche male ecco secondo me quel momento non era necessario nel senso che il film aveva già detto in tutta la sua dall'inizio alla fine aveva già detto tutto quella parte secondo me è superflua non serviva da un punto di vista narrativo secondo me è solo l'unico neo se proprio vogliamo fare alle pulci a un film come il re di Staten Island e quella è solo una piccola macchietta il resto è un film veramente incredibile da vedersi dall'inizio alla fine tiene alta sempre l'attenzione e me lo sono visto con un grande gusto poi oltre al film nel Blu-ray ci sono tantissimi veramente tanti tanti contenuti extra è veramente denso di contenuti extra come al solito io me li appunto e c'è da dire che è più di 20 1 ora e mezza 1 ora e 40 di contenuti extra tutti molto molto interessanti il primo contenuto extra che ho trovato è una serie di finali alternativi uno che secondo me ci potrà anche stare di un pranzo in famiglia che riunisce questa nuova famiglia mentre l'altro finale secondo me non ha granché senso infatti ho fatto bene a tagliarlo ci sono 15 minuti di scene eliminate 15 minuti sono tanti e in effetti forse avrebbe appesantito avrebbe reso il film un pochettino più lungo rispetto appunto ai 130 130-135 minuti che dura e che va alla grande c'è 6 minuti di papera c'è una clip che si chiama linea o rama che dura 5 minuti che non ne ho capito sinceramente il senso perché fa vedere delle scene nel film ammetto non ho capito il senso di quel contenuto extra c'è una clip di 20 minuti che si chiama Il ragazzo di Staten Island che è fondamentalmente un backstage intervista che Giudapato fa a Pete Davidson e quindi gli tira fuori un po' dei ricordi e gli chiede come ha vissuto il raccontare una storia che lo riguardava direttamente è molto molto interessante poi ci sono circa 30 minuti di diari di produzione di Giudapato che racconta un po' curiosità durante la fase di produzione poi c'è tutta una serie di piccole clip dedicate al cast c'è appunto una con il protagonista Bill Burr che fa il compagno di Marisa Tomei poi c'è una clip appunto dedicata a Marisa Tomei c'è una clip dedicata a Belle Poli che è l'amica fidanzata di Scott una clip dedicata a Mood Appato poi ci sono una clip dedicata a Steve Buscemi e una clip dedicata agli amici di Scott un po' si raccontano e Pete Davidson racconta come ha scelto gli attori come ha scelto e come nella sua vita reale sono diventati i suoi amici più cari spiegando anche perché e poi c'è una clip di una stand up comedy che Pete Davidson e Giudapato hanno fatto per beneficenza e si concludono i contenuti extra con il ricordo di Scott Davidson che è appunto il padre di Pete Davidson che morì nella tragica giorno dell'11 settembre appunto facendo il suo lavoro questo è quello che vi volevo dire riguardo al film Il Re di Staten Island bellissima comedia come sono di solito le commedie di Giudapato e se non l'avete visto sinceramente vi consiglio di vedere per questa recensione è tutto spero ovviamente che vi sia piaciuto e se vi fa piacere iscrivetevi al canale youtube di CineTVlandia alla prossima ciao